Che cosa sta succedendo ancora a Chiara Ferragni? Allora, diciamo che più cose succedono a Chiara Ferragni, più io non mi devo sbattere per cercare argomenti più seri per il podcast. Quindi, continuiamo con questa saga, sigla e a tra poco. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Viva Podcast. Rieccoci qua in una nuova esilarante puntata. Oddio, mi cade tutto. Cade tutto. Cosa sto combinando? Cosa ho fatto? Ok, sono tornato. Presente, eccomi. Sta succedendo veramente di tutto a Chiara Ferragni e quindi noi continuiamo a parlarne puntata, dopo puntata di questo podcast, anche perché continuate a chiedermi di fare nuove puntate. Io sono qui per accontentarvi, anche se fondamentalmente, della loro crisi amorosa. Non me ne frega niente perché non, diciamo che mi interessino molto le relazioni altrui, insomma, che sono sempre meno interessanti delle mie, diciamoci così. Nessuno è mai arrivato ai miei livelli. Nessuno è mai arrivato ai miei livelli, raga. Se non casi di cronaca nera e cose del genere. Quindi capite che il drama degli altri non è che mi intrattengano più di tanto perché non ci sono drammi migliori dei miei. Comunque, intanto vi voglio dire una cosa. Vi ricordo che questa domenica Chiara Ferragni farà l'intervista in tv da Fabio Fazio. E voi so che poi vorrete il video commento. Ma io domenica sarò via, sarò via, quindi non potrò seguire queste interviste e non potrò neanche girarvi il podcast per martedì. Quindi ne andremo a parlare venerdì prossimo a scoppio ritardato perché appunto non ci sono e quindi non posso seguire. Cercherò poi di recuperare l'intervista, soprattutto sperando che vengano affrontati temi appunto importanti come appunto il Pandoro Gate, le presunte truffe, le questioni sulla beneficenza che è poi quello che ci interessa di più. In questi giorni sta continuando a impazzare l'hype sulla presunta chiusura della relazione con Fedez. Io credo che effettivamente ci sia una problematica tra i due, anche se viene detto da più persone, anche da giornalisti, eccetera, eccetera, che questa potrebbe essere una strategia per uscire dall'hype del Pandoro, ma secondo me no perché intanto ok che a livello pubblico si sposta al focus, ma sicuramente la magistratura non sposta nessun focus. Cioè a loro non gliene frega de meno, quindi comunque se avviene qualche proiezione, se dovesse dopo le indagini aprirsi un processo, eccetera, eccetera, questo non toglierebbe a Chiara Ferragni il bollino di Truffaldina che ora ha. Quindi il fatto che la storia con Fedez finisca o meno non cambia assolutamente niente. Certo potrebbe servire a spostare un po' l'hype, ma non più di tanto secondo me perché le persone questa volta non dimenticano, questa volta non dimenticano. Io credo che davvero ci sia stato qualcosa tra di loro, tra l'altro se fosse una mossa per spostare l'attenzione l'avrebbero dichiarato, si sarebbero dichiarati lasciati. Invece questo non è successo, non si sono dichiarati lasciati, ma sono in realtà i giornali e le persone che sono talmente accaniti su di loro da notare se manca una fede, da notare se quello non è più nella foto insieme, da seguirli e quindi insomma diciamo che di loro non è che abbiano fatto nulla, hanno fatto molto più i giornali rispetto a loro che semplicemente si fanno gli affari propri. Quindi io credo che realmente sia una crisi, non credo che divorzino, sinceramente credo che potrebbe anche risolversi questa crisi, ma sicuramente la crisi c'è e non è tanto strano considerando quello che sta subendo lei, la tensione che c'è nella loro casa, nella loro situazione. È anche normale che magari si creino delle incomprensioni e se già c'erano dei problemi tra di loro, questi problemi diventino insormontabili in un momento come questo. Non credo sinceramente che ci sia qualcosa di strano, però andiamo con ordine a riassumere gli ultimi fatti della settimana. Allora, intanto diciamo che è uscita un'intervista di Chiara sul Corriere, se non sbaglio, e che è stata annunciata con una storia che dice, diceva sono stata zitta per troppo tempo, ora penso sia importante parlare e spiegare. Poi lei ha anche flexato, diciamo, il fatto che le persone, più di un milione di persone, un milione e seicento e passa persone, nelle prime ore abbiano cliccato sull'intervista, quindi insomma ha flexato questa cosa, e poi ha anche pubblicato una foto con una faccia da pesce lesta, da triglia, da triglia. Possiamo dire così che, tra l'altro, questa foto pubblicata da Chiara Ferragni con scritto io che vi leggo, credo si riferisse ai direct, che legge i direct della gente che le sta vicino, che sicuramente sarà anche tanta, non lo mettiamo in dubbio, e però vi vorrei soffermare a farvi notare questa foto. Oltre al fatto di questa faccia, insomma, da martire, che ormai sappiamo che Chiara non fa altro che pubblicare foto in cui ha proprio l'espressione da Madonna addolorata. Questa è proprio la foto, l'espressione da Madonna addolorata, proprio fatta apposta, cioè proprio studiata nel minimo dettaglio. Ma vorrei farvi notare una cosa in particolare di questa foto. Allora, chiedo alla regia di ingrandire la parte degli occhi e della fronte di Chiara e dopodiché ingrandire dallo zigomo in giù l'immagine. E poi magari mettiamo questi ingrandimenti qui da qualche parte vicini per farvi notare che questa foto è stata ritoccata malissimo in quanto Photoshop è stato utilizzato dallo zigomo in giù mentre dagli occhi in su la foto è stata lasciata naturale senza ritocchi. Infatti si vedono le rughe sotto gli occhi, si vede la pelle, i pori, insomma, mentre dallo zigomo in giù si vede il filtro che levica la pelle. Ora io dico, io non so se questa cosa è stata fatta apposta oppure se il dipendente dichiara che le ritocca le foto perché immagino ce l'abbia, a meno che non lo faccia lei stessa e sia incapace, cosa che c'è una persona che lavora come influencer che quindi ritocca le proprie foto in continuazione oppure ha qualcuno che lo fa in continuazione io mi chiedo come si possa fare un errore del genere come si possa utilizzare Photoshop solo per una parte del viso creando questo effetto di parte del viso Photoshopata e parte del viso no. Ora io non so se sia stato fatto apposta nel senso che lei magari normalmente si ritocca come tutte come me, come tutte e ha lasciato la parte degli occhi naturale per potenziare l'effetto Madonna addolorata con la ruga così un po' invecchiata così ancora più Madonna addolorata cioè io mi faccio questa domanda e non mi do assolutamente una risposta datela voi nei commenti perché io non so darmi questa risposta del perché questa foto sia stata ritoccata a metà tolto che comunque sia una foto anche se addolorata anche quello che volete non c'è nulla di male a ritoccarla perché magari c'è i pori, l'occhiaio non vuoi far vedere io non ci trovo niente di male io le ritocco le foto perché poi soprattutto le foto che escono fuori dagli iPhone dalla fotocamera fanno cagare senza ritocchi perché si vedono cose che normalmente allo specchio non si vedrebbero perché ci sono 50.000 megapixel allora si vedono effetti rughe, cose che normalmente a occhio nudo non si vedono ma si vedono nelle foto quindi per quello che le foto vengono ritoccate perché con appunto i dispositivi di ora veramente si vede tutto in HD in 4K cioè quindi questo è il motivo per cui si ritocca e quindi però non capisco questa foto ritoccata a metà e non mi esprimo perché veramente non so se sia un errore se si è stato fatto apposta ma in ogni caso quel che è certo è che mi sembra proprio evidente che Chiara non sappia proprio fare il suo lavoro perché il suo lavoro comprende il saper ritoccare bene le foto l'immagine il photoshop cioè oltre al discorso comunicazione oltre ai discorsi che già sappiamo e tra l'altro comunicazione marketing tutte cose che sono state fatte malissimo in questo periodo forse l'unica che è andata bene è la crisi con Fedez che sta un po' prendendo piede in modo anche non goliardico però in modo di interesse comune un po' di tutti di sapere un po' sta prendendo la piega gossip perché come gossip ci sta però per il resto probabilmente non è una cosa studiata ma tutto ciò che è stato studiato a partire dal modo di presentarsi di Chiara sui social perché quello è stato studiato ed è chiaro che lo sia stato perché è assolutamente patinato quello è veramente un disastro un disastro io fossi Chiara cambierei appunto i miei collaboratori e chi mi consiglia ma andiamo a vedere l'intervista di Chiara che dice c'è anche l'articolo qua cartaceo sono imperfetta anch'io ma sempre in buona fede cammino a testa alta e basta con le fake news ora so che a voi non piace che io vi legga gli articoli però qua è giusto che io legga qualche stralcio insomma dell'intervista di Chiara allora pare che quando si è presentata all'intervista Chiara avesse la fede al dito e alla domanda perché ha passato gli ultimi weekend senza suo marito lei risponde perché lui lui in tanti weekend non c'è stato in altri c'è stato comunque è mio marito e secondo me in certe situazioni di caos esterno le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia la priorità è proteggere la famiglia e i figli poi ovviamente qualunque cosa io faccia se ne parla se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni ma per me piuttosto che dare spiegazioni è più importante fare quello che reputo più giusto tenere i problemi familiari tra le mura poi qua lei ricorda insomma che il 15 dicembre quando è scatenato il caos lei insomma è rimasta colpita scioccata perché appunto non aveva idea di quello che stava per succedere mentre riguardo alle scuse del 18 dicembre la domanda è la tuta quella che indossava nel famoso video di scuse del 18 dicembre criticata perché sembrava scelta per sottolineare con sapienza il suo pentimento sebbene costasse 600 euro lei dice ero vestita ancora così quando ho pensato che dovevo fare un video di mostrare la buona fede mia delle persone che lavorano con me da tre giorni leggevo cose completamente false tipo che avevo truffato i consumatori e perfino i bambini malati ero veramente scossa e dopo varie prove ho postato il video e facevo del mio meglio per trattenere le lacrime perché non volevo fare la vittima che è tipo quello che stai facendo da tre mesi ok mi sono detta la gente si aspetta qualcosa da me dovevo scusarmi perché se ci sono stati dei frantendimenti vuol dire che qualcosa poteva essere fatto meglio ho anche detto che non avrei fatto mai più operazioni che mi schiassero pubblicità e beneficenza poi ho pensato faccio un gesto concreto le persone credono che mi sia arricchita cercando di imbrogliarle bene il migliore di il milione di euro ricevuto dalle mie società lo dono a regina Margherita di Torino e farò ricorso al TAR contro una sanzione che ritengo ingiusta e sproporzionata ovviamente la pago e se qualcosa otterrò indietro donerò anche quello perché a suo avviso quel video non ha fermato l'ondata di odio e di scherno probabilmente perché non era il momento giusto continuavano uscire notizie contro di me forse avrei dovuto pensarci di più aspettare ma si stava mettendo in gioco tutto si andava molto oltre i giudizi sull'operazione in sé la strumentalizzazione era completa e quando sei dentro una gogna mediatica ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando invece basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così da quando ho ripreso uscire non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse sei una criminale certo perché in faccia non te lo dicono ma solo persone che mi dicono tutto questo ingiusto ne uscirai a testa alta nel video ammette un errore di comunicazione cosa intende dire? ci siamo resi conto che alcuni processi di analisi interna avrebbero potuto essere gestiti meglio e stiamo lavorando per migliorare alcuni profili organizzativi ho sempre pensato che se hai 30 milioni di follower se fai beneficenza ne parli crei un effetto emulativo durante il covid io e Federico abbiamo donato 50 mila euro a testa ma comunicandolo il crowdfunding è stato il più sostanzioso d'Europa raccogliendo 4 milioni e mezzo grazie ai quali siamo riusciti a creare una terapia intensiva in un mese e mezzo ma non solo seguendo il nostro esempio altri hanno attivato operazioni simili per altri ospedali beh poi nel caso Pandoro però la beneficenza è stata fatta dalla Balocco non dalle sue società lei dice è vero così come è vero che è stata un'iniziativa mia e del mio team far inserire la donazione all'interno del contratto allora perché anche su questo indaga la procura di Milano la donazione è stata fatta prima che partisse la campagna delle vendite la donazione è stata fatta subito dopo la firma del contratto ed è stata fatta subito proprio perché l'importo di 50 mila euro era certo e slegato dalle vendite e poi perché speravamo che il macchinario arrivasse prima della messa in vendita del Pandoro si indaga anche perché dal cartiglio sul Pandoro e da come lei ha promosso l'iniziativa sembrava che acquistando il prodotto si contribuisse a fare beneficenza nel cartiglio nei miei post però abbiamo sempre scritto e detto che Chiara Ferragni e Banlocco sostengono l'ospedale mai che una percentuale delle vendite sarebbe andata in beneficenza questo è vero infatti il problema per cui ha ricevuto la multa era la comunicazione ingannevole una cosa che ha colpito molto l'opinione pubblica è la sproporzione tra il suo cachet più di un milione e la beneficenza 50.000 euro parlare di cachet è improprio perché quella cifra è il compenso dato alle mie società per i miei diritti d'immagine per la promozione e l'intera operazione non si deve far confusione tra la persona fisica Chiara Ferragni il brand e le aziende inoltre senza l'operazione la donazione non sarebbe stata fatta questo non risulta nel senso che io mi ricordo se non erro che quella donazione era stata fatta a maggio a maggio quando invece il Pandoro ovviamente è uscito a Natale quindi quell'operazione è stata slegata è stata fatta da Balocco per i fatti propri in quel momento non c'entrava nulla Chiara Ferragni Chiara Ferragni dopo ha voluto inserire quella donazione nel discorso del Pandoro quindi lei dice il contrario ma la Balocco invece ha precisato che sia andata in questo modo quindi boh la procura dice che nell'operato delle società c'è stato un unico disegno criminoso tra più operazioni Balocco Uova Pasquali e Bambola Trudi queste operazioni rappresentavano una percentuale esigua del nostro fatturato non comprendo come si possa dire che ci sia stato un disegno criminoso perché se così fosse la maggior parte del fatturato dovrebbe dipendere da queste attività e poi sembra che io sia conosciuto per la beneficenza ma ho fatto tantissime attività per fortuna con il nuovo DDL Beneficenza o DDL Ferragni tutto sarà molto più chiaro se ci fosse stato prima avremmo scritto sul cartiglio Chiara Ferragni e Balocco sostengono l'ospedale Regina Margherita con una donazione di 50.000 euro fatta da Balocco nessuno avrebbe potuto dire niente ci faceva onore comunque allora qua appunto c'è da capire questa questione che appunto sì è stata fatta da Balocco ma prima ancora prima che ci fossero questi accordi quindi appunto poi l'associazione americana Stombout Bullying ha sostenuto di non aver ricevuto donazioni legate alla bambola Chiara Ferragni e Baitrudi è così e lei dice la donazione è stata fatta e ho la documentazione che lo attesta a tempo debito chiarirò tutto a chi di dovere dice di essere vittima di una gogna mediatica ma non le sembra ovvio che una persona famosa come lei finisca più di altri sotto la lente dei media è stata dura per due mesi si è parlato di me come se fossi una criminale e incarnassi ogni male di questo paese quando è scoppiato il caso gli hater non hanno attaccato Balocco perché dicevano che ci sono gli operai e le famiglie ma anche per le mie società lavorano 50 famiglie sono abituata a essere un personaggio divisivo ad avere persone che mi supportano ma anche hater fa parte del gioco ma cercare ogni giorno una notizia negativa anche falsa per volere la mia disfatta è stato eccessivo da sopportare anche per me poi ho l'impressione che faccia fare più click dare enfasi a qualche hater piuttosto che alla maggioranza silenziosa che magari la pensa in altro modo quando le si chiede riguardo al futuro Chiara dice sono cambiate molte cose in questi due mesi ma il futuro al momento è un punto interrogativo non so se il mio lavoro che farò per tutta la vita o se vorrò raccontare la mia vita per sempre so che a me piace comunicare da sempre a 16 anni andavo in giro con il treppiedi mi facevo l'autoscatto volevo vedermi attraverso una macchina fotografica darmi un significato non so capirmi e non c'è mai stata l'idea di tenere quelle foto per me ma sempre condividerle col mondo e vedere cosa ne pensava nel bene nel male cazzo anche io facevo sta cosa mi facevo le foto da sola in giro all'età di Chiara c'è anche io facevo sta cosa raga mi devo preoccupare forse sarà una cosa in comune tra narcisiste voi che dite beh comunque bene o male questa è l'intervista integrale non ve l'ho letta tutta ma se volete potete andare a leggere appunto sul Corriere secondo me queste saranno un po' le stesse cose che lei andrà a dire a Fabio Fazio chiaramente lei ovviamente cercherà di difendersi quindi è chiaro che non ammetterà totalmente la verità in alcune cose di cui lei parla io sono sicura che lei non dica delle stronzate che comunque davvero sicuramente ci sta male per la situazione davvero sicuramente le cose hanno preso un accanimento che non doveva essere preso però è anche vero che le cazzate con la beneficenza le ha fatte sapeva di farle e c'è poco da dire da quel punto di vista ma parlando invece di cose un po' più leggere cioè più leggere è un paio di palle perché anche qui Chiara ci ha donato una figura di merda abbastanza improbabile perché a quanto pare forse nel contesto di Pomeriggio 5 in seguito alla presunta rottura o comunque quasi certa crisi con Fedez che poi non necessariamente finirà in una vera rottura insomma chiaramente io spero che in ogni caso le cose a loro vadano al meglio perché queste sono cose quando si entra in una crisi sentimentale quando un matrimonio una storia finisce ragazzi è sempre brutto quindi mi dispiace molto per loro due perché poi si vede che stanno male cioè Fedez si vede che sta male è anche Chiara anche se poi lei si fa i selfie da Madonna addolorata mettendo Photoshop solo su alcuni punti del viso però si vede che non sta bene cioè insomma si vede che non è non sta bene in questo periodo quindi io credo che di fatto la crisi ci sia però sapete che su Pomeriggio 5 allora io non ho una buona opinione di di queste trasmissioni che andrebbero prese in modo più leggero ma certe volte sono proprio queste trasmissioni che diffondono delle fake news o che veramente diventano il cringe più assoluto è stata diffusa la fake news che probabilmente Chiara avrebbe una relazione con fatemi vedere Tommaso Tommaso Trussardi Tommaso Trussardi che era anche l'ex di Michelle Unziker non so se stiano ancora insieme con Michelle non credo credo che sia un ex di Michelle Unziker e a quanto pare girano delle voci ma non necessariamente recenti anche di qualche anno che direbbero in cui si dice che Chiara abbia avuto una relazione con Trussardi e allora che cos'è successo che dato che sia diffusa a causa di Pomeriggio 5 questa voce di Chiara e Trussardi lo staff di Chiara che cosa dice che cosa comunica la smentita dello staff di Chiara Ferragni sulla relazione con Tommaso Trussardi solo un incontro a un appuntamento di moda nessuna relazione e nemmeno una conoscenza particolare legano Chiara Ferragni a Tommaso Trussardi che non si conoscono nemmeno si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show di 5-6 anni fa è la smentita che arriva da un portavoce del team Chiara Ferragni dopo che erano circolate le voci su una possibile relazione tra i due come causa della crisi coniugale di Ferragni con Fedez i siti di gossip hanno fatto il nome di Tommaso Trussardi 40 anni Bergamasco presidente dell'omonima casa di moda ed ex marito di Michel Unziker infatti qui dicono che appunto Tommaso avrebbe frequentato Chiara dopo infatti la rottura con Michel Unziker però diciamo che a questa dichiarazione il signor Trussardi non risponde bene non risponde bene perché pare che invece la conoscenza con Chiara ci sia e risalga a molti anni prima e il signor Trussardi si sia particolarmente offeso per giustamente essere stato trattato come qualcuno che lei neanche conosceva cioè proprio non lo conosco non lo conosco neanche proprio non lo conosco non so chi sia e quindi Tommaso risponde risponde e pubblica le foto insieme a Chiara qui raga si va nel trash qui si entra nel trash più totale cioè questa cosa questa botta risposta è stata divertentissima dire che non lo conosco neanche è offensivo l'imprenditore ha replicato tramite il suo profilo instagram al comunicato dell'entourage di Ferragni che aveva che aveva fatto sapere nessuna storia tra di loro non si conoscono nemmeno liquidare tutto con non lo conosco neanche è riduttivo e offensivo rispetto a un passato professionale che merita la sua corretta dimensione Tommaso replica conosciamo Chiara Ferragni da molti anni da quando era una semplice ma talentuosa bloggerina la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate fa sapere attraverso il suo profilo social condividendo una nota nelle storie di instagram noi abbiamo sempre creduto in lei come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le ranue dove incontrato Chiara l'ultima volta circa quattro anni fa devo dire che c'è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia da entrambe le parti liquidare tutto con un non lo conosco neanche è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione scomodare l'ansa per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno non ne combinano una giusta ma Chiara che figura di merda effettivamente infatti qui abbiamo anche la foto sono state pubblicate delle foto di Chiara insieme a lui che dimostrano che si conoscevano da molto tempo adesso non so da quanto risalga queste foto però insomma che i due si conoscono da tempo la relazione è negata anche da lui che specifica che c'è stato solo un rapporto professionale ma chissà nel senso che io penso che ora come ora non ci sia nessuna relazione e non sia stato questo il motivo per cui con Fedez abbiano rotto ma diciamo che alla fine da parte di Chiara cosa ci sarebbe stato di male nel dire si lo conosco è un ragazzo con cui ho un rapporto professionale ho avuto un rapporto professionale ma non c'è nessuna relazione esattamente quello che ha detto lui perché lei invece non lo conosco c'è il non lo conosco lo fai con l'amante quello che non vuoi far sapere il non lo conosco include che ci sia qualcosa di losco probabilmente quindi secondo me allora o non c'è stato assolutamente nulla e lo staff della Ferragni davvero non sa comunicare cioè davvero sono dei cani da questo punto di vista perché non si può dire altro oppure c'è stato magari davvero qualcosa ma non adesso magari in passato e di conseguenza la reazione chi è non lo conosco mai visto come si fa col malessere di turno non lo conosco ecco quindi si è creata una bambinata bambinata di questo tipo e quello offeso e stizzito ha replicato prendendo per il culo la Ferragni lo staff e giustamente replicando da offeso c'è a maggior ragione se tra i due c'è stata un'amicizia qualcosa o qualche flirt magari solo flirt però tutto può essere qui io non so comunque io non credo che questa sia stata il motivo assolutamente della rottura con Fedez e che Chiara in questo momento abbia relazioni perché sinceramente quando ti succede qualcosa di così pesante l'ultima cosa che pensi è avere relazioni con altri cioè io non credo sinceramente che lei abbia altre relazioni non ce la vedo più di tanto non mi sembra il tipo poi magari mi sbaglio che le più sante sono le più no non ci voglio pensare a questo non ci voglio pensare a questo invece un altro motivo per cui si pensa che Chiara e Fedez potrebbero avere litigato è che in una delle precedenti puntate scorse puntate di Muschio Selvaggio che vi ricordo del podcast di Fedez in cui c'è anche il nostro mister Marra era ospite Travaglio che ha paragonato Chiara Ferragna a Vanna Marchi e pare che si dice che Chiara non abbia preso bene il fatto che questa parte nonostante le difese di Fedez verso la moglie non sia stata tagliata e quindi Travaglio ci fa anche lui sapere che cosa ne pensa è vero che siamo in un'era di superficialità ma così superficiali da porre fine a un matrimonio con mi pare due bambini perché io ho detto una cosa che sanno tutti e cioè che lo scoop di Selvaggio Lucarelli sul Pandoro di finta beneficenza e poi sulle uova di Pasqua di finta beneficenza ha trasformato nell'immaginario collettivo non in tribunale perché non ci sono condanne non credo che sia materia penale ma nell'immaginario collettivo la santa Chiara in Bannamarchi no? Questo è quello che è successo e lui ce l'aveva ma lui che cosa doveva dire poveretto cioè ecco quindi ribadiamo questa cosa che però è vera raga cioè nel senso è questo successo che Chiara ha assunto diciamo queste sembianze queste sembianze che poi io continuo a ripetere che è sicuramente peggio di Bannamarchi perché Bannamarchi ha sempre mostrato la sua onestà e quindi è per me stimabile anche se per lo Stato è una truffatrice comunque andiamo a vedere l'ultima notizia di oggi che parla di crisi Ferragnez Fedez ha rimesso la fede al dito e Chiara no Fedez ha rimesso la fede all'anulare l'ultima puntata della crisi Ferragnez vede il rapper con l'anello al dito mentre Chiara Ferragne posta selfie in cui mostra di avere le mani nude anche se in una storia in cui indossa un maglione oversize pare di intravedersi il luccichio i follower sono dubbiosi e in questo sale e scendi di emozioni c'è anche chi spera che la separazione sia solo un blef per far parlare di sé e spostare l'attenzione da guai giudiziari a quelli matrimoniali insomma cose che si sanno Fedez e Ferragne si sono lasciati ma in auto da rientro da Torino Fedez posta una storia ironica in cui chiede aiuto al mago Telma ragazzi se avete cornetti portafortuna quadrifogli ferri di cavallo talismani potete scrivermi in DM grazie mi servono per un amico proprio come Chiara aveva fatto riferimento a una serie di sfighe che la perseguitano in questo periodo così il rapper chiama in soccorso la buona sorte insomma che abbiano un periodo di merda l'abbiamo capito tutti che praticamente il karma il karma in qualche modo si stia rivoltando contro i Ferragnez questo si è capito questo si è capito non è un buon periodo per loro e vedremo che cosa succede io che dire che di a questo punto spero che la saga continui così ne continuiamo a parlare nel podcast e non mi devo sbattere a cercare gli argomenti le cose tanto c'è c'è Chiara che offre offre contenuti praticamente in continuazione e niente raga con questo io concludo questa puntata di Diva Podcast e noi ci vediamo alla prossima di Diva Podcast